Grazie a Michele Gravano che è il nuovo segretario regionale di articolo 1 della campagna. A seguire Piero Latino, poi dirò qualcosa anch'io. Rapidamente abbiamo fatto già sapere la nostra valutazione, il nostro appoggio a quando ha detto Roberto stamattina, tra l'altro poi arricchito sulla manovra economica dall'intervento di guerra e di Bersani raccolgo un tema che io avverto e che dobbiamo toglierci la sindrome del barbaro che sta arrivando e riscoprire il gusto della battaglia e del combattimento che è proprio nel nostro DNA, perché la situazione è aperta non solo in Emilia ma ovunque. Quindi concentro su due punti, la situazione di Napoli e poi spiego il perché e quale posizione dobbiamo avere nell'autonomia differenziata e complessivamente rispetto alla politica per il sud che è il vero punto drammatico come è emerso anche dalla Svimez. su Napoli. Stiamo vivendo un momento difficile. L'esperienza della giunta dei magistri con le sue ambiguità sta facendo esplodere i limiti del governo sia politico e soprattutto programmatico in una fase di crisi profonda che non è solo la Whirlpool nel governo di una città che pur nella sua vitalità, pur nella sua crisi, coglie e chiede una prospettiva diversa. È stata presentata una mozione di sfiducia e il PD ha commesso un grave errore politico perché ha pensato di procedere con una scorciatoia firmando una mozione di sfiducia con la destra e quindi aprendo una prospettiva politica che ha accentuato le difficoltà della giunta dei magistri e delle sue ambiguità e dall'altro lato fa correre la città il rischio del commissariamento che ovviamente i frutti di quel commissariamento non sarebbero aperti a sinistra ma sarebbero manna per la destra. Il punto politico è che le contraddizioni e le ambiguità di De Magistris portano la città in un punto oscuro e torbido della sua vita politica e non sono più nelle condizioni di costruire una barriera alla possibile avanzata del centro-destra. Quindi noi chiediamo che la sinistra politica nazionale ritorni ad occuparsi del nodo Napoli per quello che significa nella prospettiva politica del sud. Partendo da questa consapevolezza, denunziando i limiti dell'operazione politica del PD e sapendo però che nella città c'è un malcontento per le difficoltà amministrative e soprattutto perché manca una prospettiva come affrontare le difficoltà, cose che invece la sinistra in altri passaggi della sua storia è stata capace di realizzare. E quindi ritorna il nostro ruolo. Dobbiamo partire dalla consapevolezza che bisogna impedire denunziando i limiti che arrivi il commissario, ma allo stesso tempo dobbiamo a partire dal nazionale e con le forze locali, articolo 1, essere il protagonista di una nuova stagione politica, di una nuova prospettiva politica e programmatica che faccia percepire anche alle forze che si riconoscono ancora in De Magistris che sono settori giovanili che non voterebbero facilmente il partito democratico, che una nuova prospettiva politica e la nostra azione politica e di governo può essere il lievito di una nuova stagione. È un passaggio difficile, complicato, non scondato perché la destra è questa, ma dobbiamo sapere che se vogliamo salvare anche le elezioni regionali dobbiamo arrivare ad affrontare oggi e non domani questa stretta politica. Sulla autonomia differenziata e finisco, vedo al sud, io lo dico chiaramente, l'ho detto anche ai compagni, guardo con attenzione alla proposta Bocci e al metodo di lavoro di Bocci, che sta evitando gli errori che ha fatto il governo gialloverde, sta dialogando con il nord. Al sud c'è una parte della società meridionale che dice affossiamo anche questo tentativo, così scambiamo il pericolo e il problema è risolto e non ne parliamo più, perché comunque è una cosa che non è utile a noi. Sarebbe un grave errore politico, si determinerebbe un cortocircuito, dall'altro lato c'è la vicenda catalana che incombe se non l'affrontiamo con responsabilità nazionale. Qual è il punto? La proposta Errania ha detto delle cose condivisibili, ma noi dobbiamo sostenere e migliorare quello sforzo di definire le regole, perché la spinta ad un diverso assetto, ad una diversa autonomia è profonda nella società al nord e anche al sud, nella parte più dinamica, perché se vogliamo governare le profonde trasformazioni il passaggio è obbligato. E allora il patto nord-sud è fondamentale, anche a partire dal... e poi mi auguro che l'azione di governo e anche l'impegno di Roberto possa portare a definire le scelte di un piano straordinario per il sud e la cui permessa fondamentale è la difesa dell'apparato industriale che abbiamo. Chiudo. La situazione di Tarondo è al limite del disastro. Le lotte operaie, così come si sono manifestate, stanno al limite dell'autogestione. C'è bisogno di uno sforzo politico straordinario di peso, soprattutto da parte della sinistra, per affrontare questo passaggio drammatico. Perché se venissimo sconfitti su questo, non è sconfitto il paese, è sconfitto drammaticamente il sud. E questo rafforza il nostro impegno a stare a fianco dei compagni e di questa coalizione di governo che con tutte le difficoltà è un punto di riferimento come ha dimostrato anche l'andata del Presidente del Consiglio oltre che di Roberto a Tarondo. Grazie. Allora Piero Latino, poi Fornaro e poi chiude Arturo Scotto. Allora io, visto il tempo per titoli, innanzitutto condividendo la relazione che Roberto ci ha fatto stamattina. Quindi prima di tutto direi questo. Supererei con una battuta la foto di Narni con una foto di Taranto nelle prossime ore. Che cosa voglio dire? Che ha fatto bene il Presidente del Consiglio Conte. Qualcosa che è stato già dimenticato, superato, ma è un atto straordinario, è fatto bene riconoscerlo, regarsi nel Consiglio di fabbrica. Penso però che in queste ore, nei prossimi giorni, vista l'annunciata decisione dello spegnimento dell'Alto Forno il 4 dicembre, è bene che le forze politiche e credo anche i rappresentanti istituzionali, anche per le cose che diceva Gravano adesso, cioè per il limite di sopportazione vicino al punto di rottura, è bene che istituzioni e forze politiche siano vicini a quegli operai. Oggi il segretario della Wilm, che è un importante sindacato lì a Taranto, dice che gli operai si insubordineranno. No, ha fatto bene, ma noi dobbiamo dire altro che insubordinazione. Gli operai in quel momento stanno difendendo l'interesse nazionale. Gli operai stanno difendendo l'interesse nazionale, se è vero tutte le cose che ci dobbiamo dire. Se c'è una battaglia per la difesa dell'interesse nazionale, noi ci siamo, troviamo le forme, le modalità, ma penso che su questo, nelle prossime ore, dobbiamo fare un approfondimento ed essere molto decisi da questo punto di vista. Sulla questione del governo, la formazione e tutte le dinamiche politiche che stanno contribuendo a indebolire dei risultati comunque positivi, perché noi in queste ore dovremmo anche comunicativamente un po' rispondere e combattere. Io tirerei fuori le bozze di tria della manovra, quelle uscite a giugno o a luglio, e ricordare all'opinione pubblica che la discussione nel governo giallo-verde era l'apertura di una crisi, perché la manovra sarebbe stata impopolare lacrime e sangue. Noi non solo non abbiamo fatto una manovra lacrime e sangue, abbiamo tolto l'IVA, diamo un segnale insufficiente, insufficiente, ma importante, sulle questioni del cuneo fiscale. L'anno prossimo, subito, a proposito dell'appuntamento di tutto il governo e di tutta la maggioranza di gennaio, noi ci andiamo anche con le nostre proposte, ci andiamo con le nostre proposte. Il cuneo fiscale sicuramente ha una proposta per l'anno prossimo di un forte investimento e con risultati, siamo qui anche con imbarazzo, ma togliamoci pure questo imbarazzo, con risultati molto buoni sul terreno della sanità e delle deleghe che sono state attribuite a Roberto. Non ci torno perché lo avete detto tutti. Un punto, e chiudo su questa vicenda della finanziaria, molta attenzione ai disegni di delega che sono accompagnati. La questione del disegno di legge sulla delega fiscale è molto importante e all'interno della maggioranza, nello specifico Italia Viva, anche qualche cosa del Partito Democratico, per essere onesti, ma soprattutto gli emendamenti presentati da Italia Viva, non sono condivisibili sotto nessun punto di vista. Non sono condivisibili sotto nessun punto di vista perché la questione della giustizia fiscale, cominciamo anche a cambiare le nostre parole, la giustizia fiscale è fondamentale in un paese in cui il bilancio dello Stato è garantito di fatto dalle tasse pagate da lavoratori e pensionati. L'85% dell'IRPEF del gettito è frutto delle trattenute di lavoratori e pensionati. Quindi da questo punto di vista le cose che ha detto Cecilia Guerra stamattina sono assolutamente condivisibili, attenzione a dare un segnale di allentamento sotto questo profilo perché dal punto di vista della giustizia sociale questo sarebbe per noi inaccettabile. Chiudo quindi su questo aspetto, quindi passiamo al contrattacco. Sulle questioni di analisi del quadro politico e delle prospettive, ora è chiaro che la mossa prima di Renzi, prima il capovolgimento e poi la decisione di lasciare il PD e di dare vita a Italia Viva ha cambiato completamente il quadro, ma ho il dubbio che sia la proposta complessiva che soprattutto il PD avanza a essere debole. Mi spiego. Noi siamo in un sistema proporzionale, siamo passati con lo stesso Premier da un governo giallo-verde ad uno giallo-rosso. Se fosse bianco-nero sarebbe meglio, ma questo è un punto importante. la dialettica tra le forze politiche è insopprimibile, soprattutto in un sistema proporzionale. Dato che noi siamo anche per un'evoluzione definitiva del sistema, dovremmo su questo, credo, registrare un po' e tenere conto che ciascuno fa una proposta, coltiva un elettorato e su questo fa una battaglia. Il governo poi diventa il luogo della sintesi, però io non credo che saremo in grado di tornare a un tempo in cui la dialettica è un po' autocensurata. Ecco, finisco sulla questione della proposta. Io condivido del tutto la proposta di una costituente per l'unità della sinistra. la condivido del tutto. Voglio puntualizzare la mia visione di questo processo. Quindi sono anche d'accordo con gli appuntamenti, cioè di collegare appuntamenti di carattere sia ideologico-culturale che programmatico, perché siamo al governo, con questo processo politico. Io credo che noi però ci dobbiamo intendere fino in fondo su un punto, che non è il PD sì, il PD no, scusate la semplificazione per i tempi, ma dov'è e a chi ci rivolgiamo? Dov'è questo famoso popolo della sinistra? Dobbiamo sapere che questo popolo della sinistra, se siamo anche coerenti con quello che noi abbiamo sostenuto, io ci credo e credo che sia così, ce lo dicono anche i dati elettorali, il popolo della sinistra è in una parte del PD, è in articolo 1 e nell'esperienza non riuscita di Leo, che comunque ci ha consentito di stare diciamo in questa discussione, è in una parte dei 5 Stelle, è come ci ricordava Bersani, in una parte di elettorato della Lega, è in tanti, tanti, tantissimi astenuti. Quindi io credo che questa proposta, poi certo c'è la discussione tra le forze politiche, e i parlamentari, ma che la proposta politica deve avere l'ambizione di unire la sinistra che si è divisa e frantumata in questi anni, forse in questi decenni e non ci possiamo accontentare di una discussione con i nostri amici, fratelli e compagni di qualche anno fa, non è sufficiente, non è sufficiente non per noi, non è sufficiente per il Paese, ho il timore anche che il grado di novità di questa proposta, se fosse ridotta solo a quello, sarebbe un po' basso. Ecco, un po' basso. Per questo io ci credo, credo anche e chiudo davvero, nel fatto che questo processo metta in campo una nuova classe dirigente e da questo punto di vista la responsabilità che tu hai assunto, Roberto, ti carica di una responsabilità, scusate il gioco di parole, che è individuale e collettiva. A lungo noi abbiamo pensato che la generazione dei nostri leader esaurisse anche una certa storia del nostro campo. Io credo, chiudo, che questa vicenda strana, fortunosa, per la quale però abbiamo combattuto, perché se ci siamo arrivati è perché ci siamo, ci dimostra che se teniamo duro e crediamo a quello che diciamo e cerchiamo di realizzarlo, noi ci siamo e siamo in grado come classe dirigente anche di rinnovare la nostra storia, che è esattamente il mandato sul quale è nato articolo 1. Grazie. Io vorrei ragionare su due questioni soltanto, ma la prima è che viviamo in una società in cui la velocità è ormai diventata la cifra della nostra contemporaneità e sembra passato un secolo dall'agosto di quest'anno, dal papete, da tutte le vicende che non ripercorro e che voi ricordate tutti, io credo che però, dovendo fare anche dell'analisi e della riflessione per capire dove siamo e dove vogliamo andare, dovremmo evitare un pochettino anche noi di avere una memoria così corta e che cosa siamo riusciti con la politica e grazie anche al nostro lavoro ad evitare al Paese. Allo stesso modo il passaggio parlamentare della legge di bilancio non sarà un passaggio facile, non sarà un passaggio facile perché come è stato detto ci si è trovati in una condizione di conti pubblici e soprattutto con un iceberg davanti che erano 23 miliardi di clausole di salvaguardia si è riuscito a dare alcune risposte insufficiente ma nella direzione giusta sul taglio delle tasse sul lavoro la questione del super ticket e altre cose che poi quando ci sarà più tempo credo sia giusto sottolineare. io vorrei dire qua in questa sede però con chiarezza che noi faremo il nostro lavoro abbiamo iniziato a presentare emendamenti in una logica di responsabilità e anche accogliendo l'invito che è arrivato oggi a essere come dire su alcune cose anche più decisi quello che non è però accettabile in una coalizione lo abbiamo detto anche su altri tavoli è che ci sia il gioco del primo della classe il gioco della comunicazione a tutti i costi il voler demolire il giorno dopo la casa che insieme si era costruita e quindi da questo punto di vista dico con chiarezza che noi riteniamo inaccettabili emendamenti che arrivino dalle forze di maggioranza che siano interamente soppressivi di articoli della legge ovvero si possono riscrivere il governo su alcune parti dovrà riscrivere la manovra ma non è accettabile che un partito di maggioranza sostanzialmente vada a martellare i muri portanti perché da questo punto di vista in questa fase dobbiamo dirlo con grande onestà è prevarsa più una logica di continuità i litigi la litigiosità esterna che è la discontinuità rispetto ai progetti per il paese e credo quindi che da questo punto di vista noi dovremmo farci sentire con forza nelle prossime settimane seconda questione guardate la piazza di Bologna una piazza bella richiama unità ma ne parlavo ieri a Carpi anche con i compagni e le compagne dell'Emilia e poi venendo giù in treno anche col segretario regionale attenzione viene sempre in mente ovviamente la famosa battuta negnana delle piazze piene delle urne vuote perché perché Bologna non è l'Emilia Romagna per esempio e perché noi continuiamo e Pierluigi Bersani lo ha colto con grande con la solita grande capacità quella è una piazza che è stata titolata come una piazza di resistenza noi se continuiamo in Emilia Romagna come su altri territori a giocare di rimando a giocare in una logica di resistenza potremmo anche resistere e l'augurio è ovviamente che in Emilia si resista ma nel medio periodo noi siamo perdenti lo sforzo che dobbiamo fare è passare da una logica di resistenza alla costruzione dell'alternativa questo è il punto e a questo obiettivo io credo noi dobbiamo indirizzare lo sforzo parlamentare lo sforzo del partito la progettualità che ha indicato ha indicato Roberto nella sua relazione perché e chiudo guardate al fondo il tema della frattura che ha evocato Bersani tra centro e territori e nelle città tra centro e periferie è elemento è la cifra di questi anni ed è anche la ragione delle difficoltà della privazione del futuro del poco coraggio dell'autodifesa del rinchiudersi dentro noi stessi c'è un dato elettorale straordinario il voto alla Lega crescerà al diminuire degli abitanti dei comuni più le città sono grandi e più la Lega prende meno più i comuni sono piccoli lontani marginali e più la Lega cresce qual è il tema quindi lo è stato evocato ma credo che sia giusto sottolinearlo il tema è riuscire da sinistra con le radici nel sistema valoriale della sinistra a dare una risposta alla domanda di protezione è una domanda di protezione che noi non possiamo non guardare è una domanda di protezione che va guardata anche nelle sue contraddizioni anche negli elementi di negatività per tutti il tema dell'immigrazione per esempio che ci pone ma a quella domanda noi dobbiamo saper dare una risposta questa è la grande sfida e ovviamente è una sfida grande comporta anche l'esigenza di avere la capacità di costruire un pensiero e di avere anche un'organizzazione in grado di dare queste risposte ed essere quell'organizzazione che risponde in maniera unitaria alle piazze come quelle di Bologna la prossima volta lo nominiamo capogruppo in Parlamento Europeo visto che ecco ma io intanto vorrei dire questo in questa stessa sala Hotel Radisson Blu ci siamo visti a metà luglio in un contesto politico completamente differente e persino dentro una riflessione una proposta che abbiamo provato ad avanzare in quel passaggio che evocava da un lato la probabilità di una lunga fase di opposizione e dall'altro richiamava i nostri alleati i nostri interlocutori a sinistra di costruire richiamammo all'epoca stati generali dell'alternativa un'occasione un'opportunità per rimettersi in cammino e in quella stessa sede ribadimmo eravamo soli solissimi che era necessario urgente rompere quel muro e che nonostante fosse nato quel governo giallo-verde fossero già evidenti non soltanto i fattori di stabilità intrinseci a quel governo ma anche gli elementi regressivi potenti eravamo nei giorni in cui Salvini quotidianamente apriva una guerra con un'ONG e in cui spingeva grazie alla mano sapiente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si evitava un'ulteriore accentuazione di elementi regressivi nei decreti sicurezza e noi dicevamo occhio bisogna lavorare a spezzare quelle gamme contemporaneamente in un'altra assemblea politica erano ancora tutti quanti insieme perché ha ragione Fornaro quando ci dice non uniamoci allo schieramento di quelli che dimenticano in fretta un'altra assemblea politica votava un ordine del giorno all'unanimità dove diceva qualora cada il governo giallo-verde si va al voto perché dico questo non per orgoglio di partitino ma perché ogni tanto bisogna anche rivendicare il fatto che nella tempesta qualcuno ha tenuto la barra dritta e in questi mesi complicati non dimentichiamocelo mai abbiamo spinto più di ciascun altro sul tema che occorreva si resistere ma provare a mettere in campo un progetto nuovo che non ce la facevamo a bonificare come dire il brodo di cultura di questa nuova destra soltanto con la testimonianza e io lo voglio dire così raccogliendo la cosa che diceva speranza e la relazione che penso che alla fine di questa assemblea dovremmo votare dobbiamo dobbiamo passare rapidamente dalla resistenza al progetto e a gennaio dobbiamo spingere come sappiamo fare noi perché si convochi una grande assemblea popolare per stabilire e ripensare il profilo di quella svolta che è alla base del tentativo di governo di Conte Bis e cosa c'è dentro questa svolta c'è l'attualità a partire dalla cosa incredibile che è successa in questi giorni e ci raccontava Scaramuzza a Venezia a Matera in altre parti del paese serve lanciare un grande piano per la messa in sicurezza del territorio e trovare subito un miliardo per svuotare canali e fiumi perché non è possibile in questo paese con quattro schizzi di pioggia se ne crolla giù tutto e questa repubblica ha un senso e ha una forza se reagisce come hanno reagito i francesi di fronte a Notre Dame occorre salvare Venezia mettere in campo un piano per salvare Venezia che sia di investimenti pubblici e anche di uno sforzo della parte più ricca di questo paese che di fronte ai drammi non può immaginare sempre di socializzare le perdite e noi faremo la nostra parte faremo la nostra parte e lanceremo una sottoscrizione per salvare mestieri e libri in quella città che è stata abbandonata ed è stata colpita dalla pioggia e dall'incuria della politica e poi occorrono alcune cose fondamentali se noi diciamo ricostruzione di questo paese svolta significa che la fase 2 è il completamento della fase 1 l'avete detta quindi non ci torno l'ha detta benissimo speranza abbiamo sterilizzato l'iva non lasciamo un'eredità di clausole di salvaguardia e diamo tre segnali lavoro sanità welfare di prossimità allora se è questo il punto il prossimo giro deve essere messo tutto lì tutto sul lavoro tutto sulla ricostruzione di un sistema di welfare diffuso a partire dalla non autosufficienza tutto sul grande tema della salute che non è soltanto le risorse ma la salute delle donne la salute dei bambini la salute di una larga parte di paese che ancora oggi è escluso al sistema sanitario nazionale abbiamo ottenuto risultati importanti dobbiamo portare avanti questa battaglia e la battaglia che sta facendo speranza non è solo una battaglia di risorse ma è di recuperare centimetro per centimetro uno spazio per il sistema pubblico nazionale che nel corso degli ultimi anni era stato smantellato e poi bisogna dire una parola semplice la dico con uno slogan lo ha detto benissimo Cecilia questo slogan no tax l'ho già sentito da qualche altra parte nel corso di questi ultimi vent'anni altri partiti si sono esercitati su questo refrain e tutti casualmente erano dall'altra parte quel partito che non si è sentito ancora è quello che vicino alla parola no tax dice verso chi e noi diciamo no tax verso quelli che non ce la fanno verso i lavoratori dipendenti i pensionati gli indigenti e l'ultimo avviso ai naviganti della maggioranza ora c'è qualcuno che scorrazza ieri dichiara da Torino che per lui le porte sono aperte al PD a Forza Italia alla Lega e persino alla sinistra più che un progetto politico sembra il promo del prossimo film di Abbanese succetto la qualunque però lo dico anche ai nostri interlocutori quelli più vicini confinanti attenzione a giocare attenzione a giocare tutti i giorni altrimenti con la parola d'ordine altrimenti si va a votare ma non perché bisogna rimanere al governo per tutti i costi a tutti i costi ma perché come ci dimostra la vicenda spagnola chiamare gli elettori a troppi stress test alla fine punisce sempre la sinistra politica l'abbiamo visto in Spagna dove il fatto che non si sia compiuto il sodalizio tra Podemos e i socialisti spagnoli alla fine ha portato a un indebolimento della sinistra politica e a un rafforzamento della destra eversiva e dunque evitiamo con una certa insostenibile leggerezza dell'essere di promuovere elementi di destabilizzazione ci vuole invece più politica e ci vuole più politica anche nei processi che avremo di qui a qualche mese nell'impegnativa relazione viene avanzata una proposta che io condivido ed è una proposta che va avanzata in maniera energica senza avere paura al contrario la dico così il prossimo tesseramento di articolo 1 nel 2020 deve essere diretto chiaramente ed esplicitamente al nuovo processo costituente per una forza della sinistra del lavoro popolare e dell'ambiente e allo stesso tempo però questo significa aprire una sfida innanzitutto a noi stessi non soltanto dare un giudizio sull'oggi ma fare un bilancio degli anni che sono venuti avanti e allora la dico così ma insomma noi siamo di fronte a un elemento che dovrebbe diciamo come dire stare nella nostra testa tutti i giorni attraversarla e su cui dobbiamo provare a fare una riflessione ma insomma guardiamo il mondo la società attuale non c'è mai stato da un lato come dire un mondo così incasinato ce lo dice l'America latina dove qualcuno riscopre una dottrina morro 30 anni dopo Bolivia Venezuela Cile Brasile dove qualcuno ha ritenuto insopportabile che un operaio metalmeccanico potesse arrivare di nuovo alla direzione del paese e guardiamo quello che succede nella vecchia Europa la Gran Bretagna anch'essa che va al voto di nuovo per la terza volta in tre anni e dove la più antica democrazia al mondo non riesce a scrivere una lettera chiara sulla Brexit e guardiamo la Spagna dove i processi di stabilità politica e una vera e propria secessione dei ricchi sta producendo molto probabilmente un elemento di destrutturazione di quel paese o guardiamo la democratica Francia dove nel corso dell'ultimo anno e mezzo quel paese ha vissuto una vera e propria sospensione democratica li ricordo solo io gli studenti inginocchiati come se stessero ancora a Santiago del Cile nel 1973 con i fucili puntati la ricordiamo tutti Parigi infiammata tutti i sabato da manifestazioni di protesta dei cosiddetti gilè gialli ma guardate che quella vicenda dei gilè gialli è esattamente quello che ci ha raccontato Pierluigi Bersani la frattura tra città e aree interne tra città e territori tra città e contado sta dentro esattamente il fatto che il welfare si è ritirato e lo Stato ha perso una funzione regolatrice che significa questo tradotto in italiano presidi sanitari che chiudono uffici postari che si ritirano è una transizione ecologica che viene governata male e allora il tema per me è come noi riduciamo quella frattura perché quella frattura in Italia per una lunga fase è stata interpretata dal Movimento 5 Stelle che gli ha dato in qualche modo un elemento di istituzionalizzazione e ha evitato che diventasse quella fiammata che ha attraversato in maniera del tutto disordinata e talvolta pericolosa ed eversiva larghi strati delle società europee nel momento in cui 5 Stelle diventano un'altra cosa nel 2013 qual era il tentativo nostro portarli dentro la democrazia costituzionale oggi i 5 Stelle se li guardiamo dritti in faccia hanno un problema opposto si sono troppo ministerializzati e quando si liberano 6 milioni di voti il problema di dove vanno e chi li rappresenta chi rappresenta quella fattura quella frattura che sta tra il popolo e l'establishment è il tema della svolta che dobbiamo proporre la nuova costituente o è qui oppure rischia di essere soltanto un'operazione che non riesce a portare diciamo nuova linfa a interpretare quella piazza piazza maggiore ha due elementi straordinari su cui dovremmo secondo me riflettere il primo bellissimo la sardina lo diceva mi pare Pierluigi da qualche parte la cosa più popolare che c'è l'alimento più popolare che c'è non so se ricordate una delle scene iniziali di novecento di Bertolucci nei primi scioperi all'albori del novecento a un certo punto c'è un contadino che si ribella al padrone e per far vedere che alla fine riusciva a mettere in discussione anche il suo corpo pur di vincere quella battaglia si taglia l'orecchio si taglia l'orecchio e se lo copre con un fazzoletto alla fine della giornata di lavoro se ne torna nella sua umile capanna perché all'inizio del novecento si viveva ancora nelle capanne nel nostro paese e porta i suoi figli dentro un pezzo di carta stagnola un po' di polenta e si siedono attorno al desco familiare mettendo quella polenta per darle un po' di sapore sulla sardina essiccata appesa per succhiare il midollo della vita questa è la sardina il simbolo più popolare che c'è che ci porta dentro la storia lunga del novecento di sofferenze e di lotte ma dentro quella piazza c'è anche un altro tema è la stessa piazza del vaffa dei del 2007 quando nasce il movimento 5 stelle e lì quella domanda di rappresentanza che era rivolta a noi con una carica di critica fortissima attenzione c'è tutto ancora davanti a noi e allora io penso che la costituente deve partire da questa analisi di base e ovviamente su cosa è cambiato nella società europea e nella società italiana ragione Roberto ideologia ma c'è mai stata un'epoca più ideologica di questa ma il pensiero unico non è la più profonda e più radicale forma di ideologia che ha dominato nel corso degli ultimi trent'anni il mondo e aggiungo ma non è ideologico il jihadismo radicale che è un sistema di società e se l'unica contrapposizione ideologica resta la testimonianza di Papa Francesco significa che la sinistra non ha fatto il suo mestiere significa ed è il rischio che viviamo e che vivono le società europee in questi anni che i danni causati dalla destra liberista trent'anni fa nel sodalizio tra Thatcher e Reagan oggi vengono risolti interpretati dalla destra della protezione la sinistra fuori a guardare o a provare a mitigare il tema per noi è rompere quella noce e aprire a una nuova svolta qualcuno lo diceva trent'anni fa c'era il tema di portare la migliore tradizione del comunismo italiano fuori dalle ceneri del muro di Berlino con contraddizioni enormi e anche con errori e però quella svolta salvò per una lunga fase al di là delle caricature dell'aneddotica che in questi giorni i giornali stanno raccontando riuscì a salvare una larga parte di quel patrimonio culturale oggi il tema è esattamente costruire una nuova svolta per costruire un soggetto politico una nuova forza della sinistra e del lavoro che superi il trentennio dell'illusione della pace della prosperità dell'assenza di conflitti e questa l'operazione che bisogna fare perché ce lo dice la realtà in un trentennio sono passati 12 punti di prodotto interno lordo mondiale dai salari alle rendite significa che qualcuno ha vinto e qualcun altro ha perso secondo che i diritti delle donne conquistati con straordinaria capacità nel corso degli ultimi anni oggi arretrano basta vedere l'attacco sistematico alla 194 che i diritti del lavoro ce lo raccontano i lavoratori della Whirlpool dell'ILVA ma ce lo racconta oggi questo episodio incredibile che è successo a Melito di Napoli dove sono dovuti intervenire i carabinieri dei NAS per liberare 43 operai sequestrati dal padrone che lavoravano in nero comprese le donne incinta ma scusatemi ma se non è materia per costruire una nuova svolta e rimettere in cammino tutta la sinistra italiana che cosa bisogna fare più e poi ce lo racconta quando si dice ripensiamo il capitalismo italiano ed europeo ce lo raccontano due cose la prima che negli Stati Uniti d'America che sono un po' più avanti di noi anche qui lo dice l'economist metà dei giovani al di sotto dei 30 anni non considera più il sistema capitalistico l'unico sistema nel quale è giusto vivere secondo che è passato sotto una patina di silenzio totale di conformismo anche per il modo in cui è costruito il sistema editoriale di questo paese compresi giornali progressisti e noi oggi comunque salutiamo e siamo vicini ai lavoratori repubblica che scioperano ma insomma si è fusa Peugeot e Fiat qualcuno ha fatto 5 miliardi e mezzo di plusvalenze ma non c'è ancora uno straccio di piano industriale per capire se si salva o meno le fabbriche in Italia e su che terreno noi rilanciamo la produzione automobilistica servirebbe da questo punto di vista un'operazione come quella che ci raccontava Alfredo Reiklin al contrario dove l'economia reale si riprende a mangiare l'economia di carta e questo il punto concludo dobbiamo metterci coraggio passione forza noi siamo quella forza che più di tutte nel corso degli ultimi due anni ha scommesso sulla scomposizione e la ricomposizione di un quadro siamo nati per questo nella nostra come dire carta di identità quella che abbiamo fatto a questo neonato quando l'abbiamo fatto nascere due anni fa c'era la certificazione della non autosufficienza non abbiamo mai pensato che da soli fossimo quella forza in grado di rappresentare il vasto mondo smarrito e diffuso alla sinistra eppure abbiamo bisogno da questo punto di vista di andare ancora un po' più in là abbiamo bisogno di attraversare questo passaggio in cui costruiremo questo processo perché alla fine anche questa volta i fatti testardamente ci daranno ragione abbiamo bisogno di un articolo uno pienamente in campo per questo sforzo non abbiamo bisogno di smobilitare abbiamo bisogno di riscommettere sulla vocazione originaria di articolo uno perché la nostra identità si chiama ricostruzione è quella su cui noi siamo nati e abbiamo fondato questa forza e la ricostruzione passa per la libertà delle donne delle giovani generazioni per l'eguaglianza per un'idea di società inclusiva per un'idea di società che si vergogna quando Salvini mette in discussione una sentenza dello Stato che vede per la prima volta riconoscere il dramma che è stato compiuto nei confronti di Stefano Cucchi e noi oggi siamo in campo per questo lo saremo nelle prossime settimane a partire anche da iniziative che abbiamo messo in campo il 14 dicembre a Bologna dove insieme a noi verrà a discutere Maurizio Landini e tante compagnie e tanti compagni della CGL un lavoro che sta facendo Piero Latino il forum sul lavoro per le questioni che ci sono più a cuore lo faremo nelle iniziative nei quattro corni dell'iniziativa proposta da Roberto lo faremo nelle nostre campagne continuando il lavoro che abbiamo fatto anche la settimana scorsa perché poi molto spesso siamo diciamo come dire anche noi affetti da tafazzismo però siamo una piccola forza ma mettere in campo tanti gazebo e tante iniziative non è una cosa che si possono permettere tutti anche se non abbiamo il fisico ce lo stiamo permettendo e dobbiamo rivendicarlo di più e dobbiamo mettere e ciudo davvero tutte le nostre forze sulle sfide delle elezioni regionali dei prossimi mesi Calabria Campania Puglia Marche Liguria e poi la sfida decisiva dell'Emilia vedete a me viene ne abbiamo parlato in tanti mi viene in mente un libro molto bello che vi consiglio e chiudo davvero che in questi giorni sta spopolando nelle classifiche ne ho parlato tante volte con i compagni bolognesi ed emiliani che però è il segno di che cosa è stata la sinistra in questo paese e che cosa rappresenta l'Emilia per la sinistra in questo paese c'è un libro un testo di una giovane scrittrice napoletana che si chiama Il treno dei bambini e che racconta di un episodio che è rimasto un po' seppellito nella memoria collettiva di questo paese quando nell'immediato dopoguerra Napoli era devastata dalla guerra appunto dagli effetti della guerra e aveva decine di migliaia di bambini in una condizione di malnutrizione di indebolimento fisico di rischio della morte le famiglie scomparse morti militari che non tornavano quella che eduardo raccontò con Napoli milionaria in questo libro si racconta di questo straordinaria operazione di solidarietà e di accoglienza che il partito comunista italiano fece per 70.000 bambini napoletani che furono mandati in un anno tra modena bologna reggio emilia ravenna a curarsi a mangiare perché il diritto al cibo non era garantito a studiare a istruirsi vedete lì c'è la storia migliore del nostro paese di un'idea di solidarietà e di accoglienza che nessun Matteo Salvini potrà cancellare ed è così che dobbiamo affrontare la sfida e la battaglia dell'Emilia Romagna con coraggio e determinazione buon lavoro lo scusa ancora un ultimo passaggio credo che la cosa migliore sia concludere questa assemblea ponendo ai voti la relazione di Roberto Speranza chi è d'accordo siamo le deleghe astenuti contrari è approvata l'unanimità grazie 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 grazie